Capitolo 7. Geppetto torna a casa e dà al burattino la colazione che il povero uomo aveva portato per sé. Il povero Pinocchio, che aveva sempre gli occhi tra il sonno, non si era ancora visto dai piedi, che gli si erano tutti bruciati. Per cui, appena sentì la voce di suo padre, schizzò giù dallo sgabello per correre a tirare il paletto, ma invece, dopo due o tre traballoni, cadde di picchio tutto lungo disteso sul pavimento. E nel battere in terra, fece lo stesso rumore che avrebbe fatto un sacco di mestoli, cascato da un quinto piano. Apri-mi, intanto gridava Geppetto dalla strada. Babbo mio, non posso, rispondeva il burattino, piangendo e ruzzolandosi per terra. Perché non puoi? Perché mi hanno mangiato i piedi. E chi te li ha mangiati? Il gatto, disse Pinocchio, vedendo il gatto che con le zampine davanti si divertiva a far ballare alcuni trucioli di legno. Apri-mi, ti dico, ripete Geppetto. Se no, quando vengo in casa, il gatto te lo do io. Non posso star ritto, credetelo. Oh, povero me, povero me, mi toccherà camminare coi ginocchi per tutta la vita. Geppetto, credendo che tutti questi piagnestei fossero un'altra monelleria del burattino, pensò bene di farla finita, e arrampicatosi su per il muro, entrò in casa dalla finestra. Dal principio voleva dire e voleva fare, ma poi, quando vide il suo Pinocchio sdraiato in terra e rimasto senza piedi davvero, allora sentì intenerirsi. E presolo subito in collo, si dette a baciarlo e a fargli mille carezze e mille moine. E con l'ucciconi che li cascavano giù per le gote, gli disse singhiozzando. Pinocchiuccio mio, com'è che ti sei bruciato i piedi? Non lo so, babbo, ma credetelo che è stata una nottata d'inferno e me ne ricorderò finché campo. Tonava, balenava, e io avevo una gran fame, e allora il grillo parlante mi disse, ti sta bene, sei stato cattivo e te lo meriti, e io gli dissi, vada grillo, e lui mi disse, tu sei un burattino e hai la testa di legno, e io gli tirai un manico di martello, e lui morì. Ma la colpa fu sua, perché io non volevo ammazzarlo. Provani sia che messi un tegamino sulla braccia accesa del caldano, ma il pulcino scappò fuori e disse, arrivederla e tanti saluti a casa. E la fame cresceva sempre, motivo per cui quel vecchino col berretto da notte, affacciandosi alla finestra, mi disse, fatti sotto e pare il cappello. E io con quella catinellata d'acqua sul capo, perché chiedere un po' di pane non è vergogna, non è vero, ma ne tornai subito a casa. E perché avevo sempre una gran fame, messi i piedi sul caldano per rasciugarmi, e voi siete tornato, e me li sono trovati bruciati, e intanto la fame l'ho sempre, i piedi non li ho più. E il povero Pinocchio cominciò a piangere, a berciare così forte che lo sentivano da 5 km lontano. Geppetto, che di tutto quel discorso arruffato aveva capito una cosa sola, cioè che il burattino sentiva morirsi dalla gran fame, tirò fuori di tasca tre pere, e porgendogliele disse, queste tre pere erano per la mia colazione, ma io te le do volentieri, mangiali, è buon prontifaccia. Se volete che le mangi, fatemi il piacere di sbucciarle. Sbucciarle? replicò Geppetto meravigliato. Non avrei mai creduto, ragazzo mio, che tu fossi così boccuccia e così schizzinoso di palato. Male! In questo mondo, fin da bambini, bisogna avvezzarsi abboccati e a saper mangiare di tutto, perché non si sa mai quel che ci può capitare. I casi sono tanti. Voi direte bene, soggiunse Pinocchio, ma io non mangerò mai una frutta che non sia sbucciata, le bucce non le posso soffrire. E quel buon uomo di Geppetto, cavato fuori un coltellino e armatosi di santa pazienza, sbucciò le tre pere e pose tutte le bucce sopra un angolo della tavola. Quando Pinocchio, in due bocconi, ebbe mangiata la prima pera, fece l'atto di buttare via il torsolo. Ma Geppetto gli trattenne il braccio, dicendogli, non lo buttare via, tutto in questo mondo può far comodo. Ma io il torsolo non lo mangio davvero, gridò al burattino, rivoltandosi come una vipera. Chi lo sa, i casi sono tanti, ripete Geppetto senza riscaldarsi. Fatto sta che i tre torsoli, invece di essere gettati fuori dalla finestra, vennero posati sull'angolo della tavola, in compagnia delle bucce. Mangiate, o per dir meglio, divorate le tre pere, Pinocchio fece un lunghissimo sbadiglio e disse, piagnucolando, Ho dell'altra fame! Ma io, ragazzo mio, non ho più nulla da darti. Proprio nulla nulla? Ci avrei soltanto queste bucce e questi torsoli di pera. Pazienza, disse Pinocchio, se non c'è altro da mangiare, mangerò una buccia. E cominciò a masticare. Da principio storse un po' la bocca, ma poi, una dietro l'altra, spolverò in un soffio tutte le bucce. E dopo le bucce, anche i torsoli, e quando ebbe finito di mangiare ogni cosa, si battì tutto contento le mani sul corpo e disse, gongolando, Ora sì che sto bene. Vedi dunque, osservò Geppetto, che avevo ragione io quando dicevo che non bisogna avvezzarsi né troppo sofistici né troppo delicate di palato? Caro mio, non si sa mai quel che ci può capitare in questo mondo. I casi sono tanti. Capitolo 8 Geppetto rifà i piedi a Pinocchio e vende la propria casacca per comprargli l'abecedario. Il burattino, appena che si fu levata la fame, cominciò subito a bofonchiare e a piangere perché voleva un paio di piedi nuovi. Ma Geppetto, per punirlo della monelleria fatta, lo lasciò piangere e disperarsi per una mezza giornata. Poi gli disse, e perché dovrei rifarti i piedi? Forse per vederti scappare di nuovo da casa tua? Vi prometto, disse il burattino singhiozzando, che da oggi in poi sarò buono. Tutti i ragazzi, replicò Geppetto, quando vogliono ottenere qualcosa, dicono così. Vi prometto che andrò a scuola, studierò e mi farò onore. Tutti i ragazzi, quando vogliono ottenere qualcosa, ripetono la medesima storia. Ma io non sono come gli altri ragazzi, io sono il più buono di tutti e dico sempre la verità. Vi prometto, babbo, che imparerò un'arte e che sarò la consolazione e il bastone della vostra vecchiaia. Geppetto, che sebbene facesse il viso da tiranno, aveva gli occhi pieni di pianto e il cuore grosso dalla passione di vedere il suo povero Pinocchio in quello stato compassionevole, non rispose altre parole, ma presi in mano gli arnesi del mestiere e due pezzetti di legno stagionato, si pose a lavorare di grandissimo impegno. E in meno di un'ora i piedi erano belli e fatti, due piedini svelti, asciutti e nervosi, come se fossero modellati da un artista di genio. Allora Geppetto disse al burattino, chiudi gli occhi e dormi. E Pinocchio chiuse gli occhi e fece finta di dormire, e nel tempo che si fingeva addormentato, Geppetto, con un po' di colla sciolta in un guscio d'uovo, gli appiccicò i due piedi al loro posto, e gli appiccicò così bene che non si vedeva nemmeno il segno dell'attaccatura. Appena il burattino si accorse di avere i piedi, saltò giù dalla tavola dove stava disteso, e principiò a fare mille sgambetti e mille capriole, come se fosse ammattito dalla gran contentezza. Per ricompensarvi di quanto avete fatto per me, disse Pinocchio al suo babbo, voglio subito andare a scuola. Bravo ragazzo! Ma per andare a scuola ho bisogno di un po' di vestito. Geppetto, che era povero e non aveva in tasca nemmeno un centesimo, gli fece allora un vestituccio di carta fiorita, un paio di scarpe di scorza d'albero e un berrettino di midolla di pane. Pinocchio corse subito a specchiarsi in una catinella piena d'acqua e rimase così contento di sé che disse pavoneggiandosi «Pai è proprio un signore!» «Davvero!» replicò Geppetto. «Perché, ti ha la mente, non è il vestito bello che fa il signore, ma è piuttosto il vestito pulito!» «A proposito, soggiunse il burattino, per andare alla scuola mi manca sempre qualcosa, anzi, mi manca il più e il meglio. Cioè? Mi manca l'abbecedario!» «Hai ragione, ma come si fa per averlo? È facilissimo, si va da un libraio e si compra!» «E i quattrini? Io non ce l'ho!» «Nemmeno io!» soggiunse il buon vecchio, facendosi triste. E Pinocchio, sebbene fosse un ragazzo allegrissimo, si fece triste anche lui, perché la miseria, quando è miseria davvero, la intendono tutti, anche i ragazzi. «Pazienza!» gridò Geppetto tutto ad un tratto rizzandosi in piedi, e infilata la vecchia casacca di frustagno, tutta toppe e rimendi, uscì correndo di casa. Dopo poco tornò, e quando tornò, aveva in mano l'abbecedario del per il figliuolo, ma la casacca non l'aveva più. Il pover' uomo era in maniche di camicia, e fuori nevecava. «E la casacca, babbo? L'ho venduta!» «Perché l'avete venduta?» «Perché mi faceva caldo!» Pinocchio capì questa risposta a volo, e non potendo frenare l'impeto del suo buon cuore, saltò al collo di Geppetto e cominciò a baciarlo per tutto il viso. Abbiamo letto «Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino» di Carlo Collodi, editore Giunti. Grazie a tutti!